salve il tuo costume mi piace non è un costume io sono un elfo tecnicamente sono un umano cresciuto con gli elfi eagle pictures presenta la storia di un elfo che torna a casa per natale quando sarò con mio papà andremo a patinare sul ghiaccio e mangeremo caramella scusa ora qualcuno le ha mandato un natale gramma mamma chiama la sicurezza ottima idea vatti conosce un mondo di cui non sospettava l'esistenza vatti è tuo figlio che cosa dovrei fare è completamente pazzo e scopre qual è la strada da percorrere per arrivare là dove nessun elfo è mai arrivato prima ha bisogno di sentirsi accudito portalo a casa fagli conoscere emily e michael quanto pensi che rimarrai con noi più o meno pensavo per sempre non resterà con noi non possiamo prenderlo e buttarlo nella neve ad ora la neve me l'avrà detto quindici volte figlio di uno schiaccianoci possiamo batterli e dove hai detto che venivi quest'autunno sai tu sei bellissima e mi si gonfia la lingua quando sto vicino a te preparatevi ho programmato la giornata faremo casette di marzapane e ci faremo per mano a una straordinaria fiaba come la mettiamo la storia in cima di proporzioni elfiche lo so io will ferrell ci siamo babbo natale sta arrivando io lo so babbo natale io lo conosco mio amico mio elf ti ricordi di me? non ti riconoscevo perché sono vestito da lavoro? non sapevo che avessi degli elfi qui ok sei molto divertente a me come sei arrivato ti sei fatto prestare un'arena? ehi se ti senti tanto forte spilungone prova a chiamarmi elfo un'altra volta avanti è un elfo arrabbiato ma che carina sono qua di l'elfo da dove giochi?